Campania. La protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali valido dalle 6 di stamani, giovedì 18 gennaio, alle 6 di domani, venerdì 19 gennaio. Si prevedono precipitazioni repentine, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere improvvisi, intensi e a rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche fulmini, grandine e raffiche di vento. L'allerta riguarda tutta la Campania ad esclusione delle zone 4, Alta Irpinia e Sannio, e 7, Tanagro. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale youtube, resta sempre informato. Grazie per la visione!